Entro ottobre il PD di Gubbio si ritroverà al congresso e il percorso non si preannuncia né sereno né privo di nodi da sciogliere. Il primo partito della città deve fare i conti con l'analisi del fallimento di governo, quel governo di centro-sinistra guidato proprio dal partito che era riuscito a tornare leader dopo anni passati all'opposizione. Un partito che alcuni raccontano compatte o nonostante la decisione presa dal gruppo consigliare di mandare a casa Guerrini, ex segretario e bandiera del PD ed il governo. Ma sono molte le anime che in realtà sono amareggiate per quanto successo ed in aperto conflitto con alcuni esponenti attivisti ed iscritti. A breve si aprirà la fase del tesseramento e sarà il banco di prova per capire se e quanti usciranno dal partito. Un partito che potrebbe vedere un serrato confronto interno qualora le varie anime devessero rivendicare simbolo e nome. Il sindaco non ha fatto mistero di aspettarsi che chi ha fatto cadere il governo sia espulso dal PD e quindi l'asse pecci di Benedetto Sarli potrebbe scontrarsi con quella degli altri. Dalla prossima settimana già al via le nuove riunioni a Piazza Oderisi per capire che fare e da dove ripartire in vista di un progetto come annunciato dal capogruppo Ruspi già in costruzione. Un anno poi non è poi così tanto per riavviare un'opera di valorizzazione dell'immagine agli occhi di una città rimasta delusa e sbigottita. Tutto il centro-sinistra dovrà fare i conti con l'opinione pubblica. Ci sarà anche il fronte caldo della scelta del candidato a sindaco e delle coalizioni. Di Benedetto nell'EPD resta in pole position con Smacchi che ai microfoni di TRG ha assicurato che vorrà terminare il mandato in regione. Ma anche Guerrini potrebbe riprovarci, convinto com'è che il suo progetto era e resti valido ed affossato solo per giochi personali e politici. Intanto o comunque si attende l'arrivo del commissario ad acta prima e quello prefettizio poi.